buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video video particolare come avete letto dal titolo spero non fraintendiate e allora delle app mariosca allora google è un vero e proprio ecosistema comprende molti servizi e sono tra di loro tutti collegati tutti quindi se serve una tecnologia è stata già sviluppata da da un altro servizio di google utilizzano quella senza ricrearne una da zero questo qua è molto positivo ma così si viene a creare diciamo un effetto di app mariosca mi andrò a spiegare meglio con un esempio vediamo ad esempio l'app email questo qua sia su android sia su iphone l'app email crede sia il provider di email più utilizzato al mondo ovviamente non servono presentazioni qua ci sono tutte le mail in basso a parte le app go le app go sono un'altra cosa qua in basso c'è riunioni qua ci abbiamo mit adesso qua è mit si a meno relativamente meno impostazioni io sinceramente mi sono trovato uguale all'app mit che c'è sull'app store e il play store praticamente identica che si ci sono delle delle modifiche grafiche ci sono delle cose in più grafiche che stanno solo nell'app però diciamo per fare qualche riunione così va più che bene un'altra un altro caso diciamo di questa app mariosca quindi c'è e mi c'è mit dentro email dentro che ne so google foto vabbè questa cosa è stata aggiunta da poco però non è molto cioè si sa che google vuole mettere l'assistente google e google lens un po dappertutto infatti se io prendo una foto a caso qua c'è il tastino di lens mi permette di fare varie cose come trovare come trascrivere quello che c'è scritto trovare foto simili sia tra le mie sia internet però è praticamente google lens un altro caso ha dell'app home l'app home google home ha molte impostazioni di ha le impostazioni diciamo di domotica è l'app di google dedicata alla domotica che ha molte piccole impostazioni di google wifi però dentro c'è proprio un assistente google completo e cosa puoi fare prova a dire aiutami a gestire gli ordini aiutami a impostare le sveglie quasi quasi quella della forma completa ma secondo me l'esempio l'apice dell'app dell'app matrioska come l'entendo io è dentro l'app di google perché questa app prendiamo con calma tanto qui c'è la cosa e dell'assistente google è un vero e proprio assistente google inoltre qua c'è discover che sarebbe google news un'altra app di google se poi andiamo a cercare ci sono varie cose adesso io cerco anche una frase a caso c'è sia questa tecnologia c'è sia lens eccolo qui ecco qua c'è lens poi c'è vabbè shopping notizie anche qua google news vabbè faccio cerchiamo qualcosa di sconti proposito ecco qua c'è google news proposito di sconti sul mio sito di sconto offerte punto blogspot punto com sta in descrizione ci sono le migliori offerte amazon e non è finita ancora qui a perché video cioè se voi potete vedere anche i video di youtube senza avere proprio l'app di youtube però solo visualizzarli maps faccio avete google maps google libri vabbè qua c'è l'elenco però non li potete leggere se io scrivo il raduttore cioè google traduttore e ci sono così anche cose se io faccio altri strumenti se vuoi nel video che vi lascio in alto a destra ci sono un sacco di strumenti e esempio questa qua è la livella io adesso sto muovendo il telefono e questa qua è una livella poi c'è pure calcolatrice vabbè guardatevi il video dove ve ne ho lencate alcuni dell'app android di google inoltre c'è anche tutte le impostazioni quasi tutte impostazioni di google home c'è anche l'assistente google fatto meglio più integrato e c'è google lens proprio con l'iconcina in alto vicino al microfono quindi è ancora più mariosca su android dell'app di google inoltre vi fa da browser chrome se io cerco un sito mi fa anche da browser da chrome cioè è un'integrazione unica vabbè spero che questo video vi sia piaciuto lo abbiate trovato inoltre e inoltre questo qua non è un'app mariosca però e pubblico per favore rimediata sto 91 per cento di non iscritti per favore iscrivetevi spero che come al solito il video vi sia piaciuto alla prossima ciao 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 ciao